E' il santo dei miracoli e dottore della chiesa, uno dei più amati dai fedeli, canonizzato nel 1232 ad appena un anno dalla morte. Ieri è stato festeggiato anche a Sassari Sant'Antonio da Padova, con una messa celebrata nella chiesa di Santa Maria di Bethlehem dall'arcivescovo padre Paolo Azzei. Al termine, una processione guidata dal padre guardiano dei fratti minori conventuali Silvano Bianco ha attraversato il centro cittadino, con la partecipazione di una rappresentanza dei gremi, di gruppi in costume e della banda Città di Sassari, che hanno accompagnato il simulacro di Sant'Antonio e una reliquia portata dalla polizia locale. La nuova statua è stata realizzata dal laboratorio d'arte dello scultore salentino Antonio Papa. Quella di ieri è stata una giornata interamente dedicata a Sant'Antonio. Al mattino è stato distribuito ai fedeli il tradizionale pane. Nel pomeriggio è stato invece ufficiato l'affidamento dei bambini. E' stata inoltre promossa una pesca benefica, oltre ad una fiera del dolce di beneficenza e la donazione del sangue. I festeggiamenti avevano preso il via lo scorso 31 maggio, con la consueta tredicina terminata lunedì scorso. Le celebrazioni in onore di Sant'Antonio da Padova si concluderanno domenica prossima 18 giugno con un grande concerto finale, che vedrà la partecipazione di tutti i cori che hanno animato le liturgie delle ultime settimane.